Poi quel tweet è stato mal interpretato, secondo me, perché non facevo riferimento alla resistenza partigiana, ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai. Ma in realtà un sacco di miei colleghi hanno usato il concetto di resistenza, se penso alla rappresentante di lista, i Comacose nell'ultimo disco. C'è proprio un modo di vivere, nonostante i tempi magari non siano facilissimi.